Come andiamo? Fanno una parete blu e una parete russa. Una parete blu e una parete russa. No? Ma sì. Sai come viene bello? Lo fanno per Michele. Brugherosso che è Milano. Eh sì. Va bene così? Sì, sì, sì. Ti avrebbe il colore. Ti piace? Sì, mi piace. Non è che ci piace lui anche. No. Bello, ammazza. Ok, va.